Ciao, Isettina! Bene, eccomi qui, il tuo fedele socio presenti all'appuntamento come sempre. È l'ora della ronda quotidiana, non l'hai dimenticato, vero? Isettina! Dai! Ciao, Noir! Vuoi smetterla con questi scherzi? Avrei potuto farti male! Mila di ciò che mi fa veramente male è quando mi mandi di ronda da solo. Mi è persino mancato il tuo sguardo imbronciato. Scusa, amigattino, ho troppe faccende da gestire al momento. Lo credo bene, guardiano dei Miraculous, grande nome, grandi responsabilità. Prometto di non dimenticare più le nostre ronde. Andiamo? Katami! Devo andare, probabilmente il mio padre è in pensiero. Ciao ragazzi! Ho dimenticato delle cose in classe. Ti chiamo più tardi. Tetsu, andiamo. Katami! Evviva! Ho ripreso tutto col cellulare, siete stati fantastici! Io no, Nino, ho anche sbagliato l'int. Possiamo sempre rifarla se vuoi, Adrion. Sì, dai, rifacciamola! Adrion, non c'è tempo. Altri cinque minuti? Beh, farò meglio la prossima volta, lo prometto. A presto ragazzi! Ciao tardi. Ciao tardi!